ciao cari amici la lezione 62 aggettivi di appartenenza quando si usano quando qualcosa o qualcuno appartiene ad un essere vivente cioè ad una persona oppure ad un animale animali potranno essere come domestici così anche selvatiche non c'è la differenza dobbiamo anche sapere che potranno essere soggettati ai mutamenti cioè diventare aggettivi di appartenenza i cognomi delle persone nomi propri professioni e anche nominativi di parentela ad esempio della nonna di figlio di mamma e naturalmente questi sostantivi che nominano cosa appartiene potranno essere come animati così inanimati ad esempio animati se un cucciolo appartiene al cane un sostantivo animato oppure figlio della mamma mamacchenseno appartiene alla mamma questo figlio e potranno essere inanimati con come in questo caso cuccia di cane cuccia sarebbe butca se sostantivo femminile facciamo la domanda cia e otteniamo subito la risposta quale desinenza deve avere nostro aggettivo di appartenenza sabaccia se prima utilizziamo genitivo in stesso modo significato è stesso possiamo utilizzare aggettivi di appartenenza se a qualcuno di loro appartiene un sostantivo di genere maschile ad esempio lo sguardo di gatto sglia facciamo la domanda cia e sarebbe cachaci potrebbe essere sabacci di cane o potrebbe essere di uccellino ptici e il sostantivo che sceglie quale desinenze deve avere aggettivo e in lingua russa di solito aggettivi si mettono davanti il sostantivo e raramente dopo ok se sostantivo che appartiene e di genere neutro gnezdo nido di uccello facciamo la domanda cio e aggettivo avrà desinenze di neutri gnezdo cio ptici se volete riguardate la lezione 27 dove ho spiegato come crearli si riconoscono dalle desinenze naturalmente si parte sempre dai maschili che terminano in iu ii in un e of yev naturalmente questi altri ultimi due si usano per le persone a questi qua per animali e anche in un per animali vediamo qui vedete per femminili neutri e plurali basta aggiungere ci davanti e abbiamo già la domanda ad esempio la coda di volpe chvost c'ei lisi capanna femminile c'ia избушка lisi tana logava neutro in russo c'io lisi le zampe plurale più di una zampe allora lape c'i lisi esistono le disinenze in un in ad esempio e ad esempio lisicin anche se traduce di volpe e ad esempio lisi c'eixin хвоst lisi c'ynaa サ isbuhra lisi c'ynoo logava lisi c'yna lapı kuni c'yam lisi c'yam e sistrin, sistrin, ho messo anche accento, perché noi non usiamo, raramente si usa, però sistrin, vabbè, ci sta. E allora voi dovete sapere che si traduce in stesso modo, nonostante che hanno desinenze in in e in, e di sorella. Papi e mammi sapete già, ad esempio se un oggetto, sciapca, capellino, appartiene alla sorella, diciamo, sistrizzina, sciapca, al papà, papina, sciapca, mamina, con inna, sciapca. Se, oggetto, di genere neutro, pastellne, bilyo, biancheria, Cio? Sistrizzina, papina, mamina. Se, plurale, jeans, jeans, oppure вещи, le cose, le sue cose. E allora? Sistrizzini, papini, mamini. Esistono quelli in ov e ev. Di padre, atzov, di nonno, dedov e di tutta la famiglia, testev, zatev, quello che volete. E allora? E allora? Se, pastellne, bilyo, cio, atzova, dedova, testev, zatev, 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 zatev. Risata infantile, ad esempio, ribiaci, smieho, oppure treccia panciulesca, dievici a casa, malcisici igri, giochi per ragazze, divertimenti infantili, ribiaci e zabavite. Può essere dievici igri, oppure ribiaci igri, quello che volete, esistono. Naturalmente, ricordate, essendo scritti in stesso modo, lissia esbusca, lissia sciapca, lissia chitrest, questi due altri rispondono alla domanda caccaia, perché indicano, relativi indicano di quale materia, insomma, fatta questo capello, cappello di volpe o della volpe. Lissia sciapca, non è più di volpe, a nostra, magari abbiamo comprato noi, e indica di cosa è stata fatta, materiale, di vetro, di ferro, di terra, di quello, no? Qui, diciamo, di pelice della volpe. E qualificativi che indicano qualità, ad esempio, della persona, può appartenere, lissia chitrest, furbizia, a una persona, ok? Ok? Insomma, lissia esbusca, qui si tratta di appartenenza, perché appartiene proprio ad animale. Si può indicare appartenenza in due modi, usando genitivo e usando aggettivi di appartenenza. Come capire? Vedete, entrambi si terminano con la A, ragà, barà, come capire a chi appartiene? Naturalmente dovete sapere la traduzione, corna di montone, è a montone che appartengono le corna, e non in contrario. E allora, la parola a cui appartiene dobbiamo cambiare, modificare, mettendo le desinenze di genitivo, perché rog, il corno, uno solo, al nominativo, ragà al plurale. Barà al nominativo, un sostantivo maschile, ragà, cavò, barà, allora questo qua è genitivo. Invece, quando creiamo aggettivo di appartenenza, in lingua russa di solito aggettivi si mettono davanti il sostantivo, come in inglese. E allora, ragà, ci, perché è plurale, barragni, vedete, barà, al nostro nominativo abbiamo aggiunto le desinenze, come nella nostra domanda. Se ad esempio lana, scherz, cia, baragna, un sostantivo femenile, carne, мясa, neutro, cio, baragna, zampe, ci, zai, lape, scusatemi, zampe di lepre, lape, ci, zai, ci, nido di corvo, gniezdo, cio, varonje, la bici di papà, ve la si piet, ci, papin, con in, vedete, se appartiene alle persone. Favole della nonna, plurale, scaschi, ci, babushki, n, in e anche il. Naturalmente esistono le copie quando creano inanimato più inanimato. In colore rosso ho evidenziato aggettivi di appartenenza. Ad esempio, si può dire stiganie adieyalava, stiganie cio, come termina con je, allora, adieyalovo, ok? Con ov, vedete, raramente. Oppure, dugi ci, ribrovi, archi costali. Oppure, ci, rio, mucini, scate, krokodilavi, sliozi, lacrime di cocodrillo. Si può dire cracadilii, sliozi, sliozi ci, cracadilavi, con ov, vedete, nonostante che si tratta di animali. Oppure, vite di archimede, vint, maschile, allora cei, archimede, una persona, archimede al nominativo. Vint, archimede, in questo caso, con l'acqui si usa genitivo e si mette dopo il sostantivo, il genitivo. In questo caso, archimede, vint, aggettivo si è messo davanti. O tantalave, mucchi, mulino di sofferenza, ok? Esistono queste, diciamo, espressioni. Naturalmente, su internet ho trovato tantissimi errori, tutto superficiale, tanti, tanti errori che dicono che al nominativo e accusativo i nostri aggettivi di appartenenza non cambiano nulla e dopo il genitivo e tutto quanto, insomma, si declinano come aggettivi normali di qualità e relativi e tutto quanto. Non è vero, un errore, perché stiamo sempre attenti con accusativo, perché finché si tratta di maschili e neutri non si cambia niente, ma quando si tratta di femminili noi ricordiamo che A e IA rispettivamente si scambiano con U e U. Ad esempio, io vedo, mammin ruczac, o mamina calsò, come al nominativo resta così. Invece, mamina, chapka, al nominativo, vizu, što, chapku, chiu, maminu. Naturalmente, guardate, quelli che terminano in I avranno le desinenze come aggettivi normali e sapete già fare. Dovete sapere che si usano questi suffissi anche per formare i cognomi. Ad esempio, ilin, lisitsin, pietrov, lebedev, ho messo anche mio cognome, non sapevo. Insomma, vedete, obosev, iniev, però aggiunto la A perché sono femmina. Naturalmente, mio ex, essendo maschio, non ha la desinenza. Non aveva mai. Allora, abosev, sto scherzando. Abosev al plurale. Come andiamo a declinare? Usando genitivo. Abosevich net doma. Vedete? Non ci sono a casa. My idem k kamu? Da chi stiamo andando? K abosevim. Di lei, di femmina o di maschio? Ok? Dovete sapere che dovete declinare. Se un oggetto appartiene al nome proprio, ad esempio, kniga natashe, qui si usa il genitivo, kniga kavô natashe. Se creiamo aggettivo di appartenenza, diciamo natashe, kniga, prima di tutto notiamo che si sposta aggettivo davanti, davanti sostantivo. Ok? E non scordate mettere questo aggettivo con maiuscola, perché il nome proprio, natashe, na. Se ad esempio tanti libri, natashe, ni, kniga, drusia kavô, sirioge, genitivo, sirioge, ni, drusia, perché plurale, anche qui, vedete, es, maiuscola. Se ad esempio libro, sirioge, na, kniga, insomma avete capito. Ricordate, vengono chiamati pritagiatilne, che rispondono alle domande cecio e non kakoi, kakaya. Adesso impareremo, vedete, esistono quelli che terminano in knia e naturalmente knia potete scambiare con neutri, no? Con plurale e tutto quanto. Allora, alen con en, tilen con en, fazan, sazan, varona e bisiana. Varona e bisiana perderanno a finale. Ad esempio di cervo, impronta, slet, cei aleni, pelle, scura, cei aleni, carne, miassa, cei aleni, corna, plurale, ragà, cei aleni, se un solo corno, rog, cei aleni. Prendiamo la cornacchia, ol' corvo, becco, cluv, cei aleni, gregge, staia, varonia, nido, gnezdo, varonia, ali, plurale, criglia, varoni. Prendiamo la cimia. Lo sguardo di cimia, vzglia, cei aleni, postura della cimia, assanca, cia aleni, orecchio di cimia, uca, cio aleni, abitudine della cimia, privicchi, cio aleni. Qui ci sono esempi, guardate bene. Iz varonneva cluva выпal кусoc syrac, e dal becco del corvo è caduto pezzo di formaggio. Iz cievo, iz cluva, iz cievo, varonneva. Ti говорiš o bollennih rogah? A čom? A rogah? A čih? A bollennih. On vernułsa domoi s olenimi rogami. A compratus, pero. S ciem? S rogami, s cimi? S olenimi. Come declinare? Ja priešol bez fazanii dabytci. Dabytci prede. Senza preda. Se andato alla caccia e tornato a mani voti. Bez cievo, bez dabytci, bez ciei fazanii. Non ha preso faggiano. Ok? Non ha sparato, non hai portato da mangiare. Esistono aggettivi di appartenenza che hanno eccezione, che si terminano con questi desinenzi ova, ja, come qualificativi. Naturalmente ovei, ovoje, ovoje dovete cambiare qua. Insomma, balena, kit. Se di balena qualcosa, kitovaya. Tricchetto morj, morjovaya. Elefante, slon, slonovaya. Tigre, tigrovaya. Riccio, ježovaya. Serpente, už, užovaya. Talpa, crot, kratovaya. Lucerino, čiž, čižovaya. Castoro, bobr, babrovaya. Girafa, giraf, girafavaya. Iorš, ruffo. Iershovaya. Orata, leš, lišovaya. Asioter, asioter, storione. Accento sulla jo. Jo je sempre accentata. Qui si cambia accento. Asioter, četar, salmone. Četovaya. Ricordate. E naturalmente, četovaya. Quello che volete. Insomma, se vi chiedono cosa vi porterò dalla Russia, diciamo come regalo, chiedete. Lasosivaya ikra. Ja chatielby lasosivai ikry. Čevo? Ok? Lasosivai ikry. Esistono quelli che terminano in via. Perché vol, bue, carova, mucca. Vediamo. Testa di bue. Galavacchia, carovia. Serdze, čio, valovie. Corri di bue esistono come in Italia, così anche in Russia. Buoni pomodori, valovie serdze. Ok? Vengono chiamati. Mamella, vimia, neutro, čio, carovie. Corna, ragaci, carovie. Galavà. Anche qui galavà, la testa, però di mucca. Vedete cosa succederà con carova. Perde a finale. Galavacchia, carovia. Latte di mucca. Malako, čio, carovie. Avete visto? Esistono alcuni, ad esempio, di cigno. Si può dire in due modi. Libidina, che terminano con aia. Naturalmente libidina e osero, ad esempio. Osero, lago. E li biažje. Ok? Libiažje, libiažje. Di torro. Byčinaya, byčacchia, byčia. Di scuiatolo. Burundukovaya, burundučnaya. Di tasso. Barsukovaya, barsučia. Di tartaruga. Cerepahavaya, cerepahavaya, cerepahšja. Di cocodrillo, abbiamo già visto. Krakadilovaya, krakadilija. Di squalo. Akulovaya, akuľya. Di rana stiamo attenti. Guardate. Llagusicchia, con la e. E llagusacchia, con la a. Llagusicchia, llagusacchia. Traduzione di Elina. Lenin, perivod. Perivod. Moskili, Lenin. Ok? Lekcija, lekcija, liceone, femenile. Lenina, lekcija. Sasa, Sashin, perivod. Masha, Mashin. Vaśa, Vasin. Petia, Petin. Vowa, Vovin. Ivan, Ivanov. Perché Ivanov sarebbe un cognome. Ivanov, perivod. Divagna. Ok? Che terminano in cia, di tacchino. Indyuk. Come cambieremo? Guardate. Perdiamo k. Indyushacchia, 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 indyushacchia. Poi questa a deve essere qua. Non lo so per quale motivo, ma diciamo, ho copiato, immagine. Perché non ho tempo di creare da sola. E allora guardate, digazza. Saroca. Si può dire. Abbiamo perso k. Saroci e tutto c'è. Oppure sarokin. Ok? Ci sarebbe k qua. Sarokina, sarokino. Ok? Oppure cucuschka. Si scrive con la a. Cucolo. Cucuschkin. Ok? Cucuschkina. Oppure di lepre. Zajac. Adesso perdiamo c e imitiamo c. Zajacchia, 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 uschchia. Zajacchia, izbushka. Ok? Sciuca. Perdiamo due lettere addirittura. Sciucci, 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 sciucci. Di luccio. Ok? Sabaka. Perdiamo k. Sabaci, sciacchia, sci. Coschka. Si può dire in due modi. Coschkin o cacchacchi. Volk. Lupo. Si, di lupo. Volci, volcia, volcie. Bielka. Con la a si scrive scoiatolo. Bielici. Come avete notato qui si aggiunta anche una i. davanti. Ok? Crolli, coniglio. Abbiamo perso k. Crollici, crollicia. Crollici e crollici. In zja, ad esempio, beluga. Vedete? Tutti. Nassarok ha una g. Qued, d. Medvec, verbliut, sterli, zivriuga. In g e d otteniamo zja. Vediamo. Belugia. Ad esempio, belugia ecra. Così dovete comprare. Costum sacco di soldi. Belugia ecra. Comprate in fiera. A Milano. Di ridoceronte. Nassarok, nasarrojja. O nasarrojja. Insomma cambiate. Di orso, medvedi, medvejja. Verloga. Oppure di storione stelato. Sivriuga. Sivriujja. Sivrija. 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 Vedete? Con barátolo rosso. Verbliut. Bello. Verblhuzja. Ad esempio. Verblhuzje a dijala. Esiste. La coperta, bella calda, no? A diallo termina con o, neutro, allora verbliugie, a diallo. Esistono che fanno eccezione e terminano in naia. Naturalmente si cambiano noie, nye, nye. Curica, di pollo, curinaia, ad esempio, pece, fegato. Oppure di gallo, pietuch, pietuchinaia, perro, ad esempio. Oppure guis, doca, gussinaia, jir, ad esempio, il grasso. Gru, giurave, si può dire giuravlinaia, stalla. Oppure giuravlinaia, clin, quando volano, no? Giuravlinaia, salaviei, ad esempio, pev, quando cantano. Oppure colomba, golub, galubini, bulion, brodo. Grac, di torri, gracini. Socol e jastri, il falco, ad esempio, los guardo, socolini, o jastribini, взglia. Varabiei, passero. Varabienei, pamet, ad esempio, excrementi, pamet, pamet maschile, allora varabiene. Savà, guffo, savini, ok? Savini, savinaia, savinaia, dipende che cos'è. Muraviei, formica, formica. Muravinaia, vedete si ha messo anche il segno molto, muravinaia, narà, ad esempio, no? Oppure kamar, zanzara, quando vi punge. Kamarini, ucus. Maschile, allora kamarini, via appunto la zanzara, no? Zebelino, sobal, sabalini, miech. Oppure pelice, quello che volete. Il topo, sedi topo, mish, mishini, dopo sh scriviamo i, perché si bilante, ok? Zmeia, zmeini, cavallo. Loshat, zmeia, serpente. Loshat, laschadini, di cavallo. Torniamo alle serpente, stiamo attenti. Zmeini, jat, ad esempio, e veleno, due lettere così, se vedete, mai toccate con le mani, non mangiate, in pratica state molto attenti. Ci sono veleno di topi, mishini, jat, oppure zmeini, jat, ok? Bene, stiamo finendo. Jaitso, chiyo, kurine. Ricordate, ricapitoliamo veloce. Cia è la parte, una sola, medveggia. Cio è la parte, duplo, beliche. Cio è la parte, jatso, kurine, neutro. Cie è la parte, plurale, lasi, nye. Cie è la parte, uche, zaya, plurale. Cio è la parte, glanzo, nido, barone. Ok? Grazie per attenzione, ragazzi, studiate bene. Prossimamente vi preparerò le desinenze per le persone. Come creare aggettivi di appartenenza delle persone. Ciao!